Arma dei carabinieri sempre più vicina alla gente. Parte da settimana prossima il nuovo servizio di ascolto che coinvolgerà i militari della stazione di Strese e comuni di Belgirate, Gignese e Brovello Carpugnino. Il servizio prevede che i carabinieri del comandante di stazione James Lewis siano a disposizione dei cittadini, soprattutto anziani, dei comuni che non dispongono di un posto di polizia fisso per ascoltare, consigliare, raccogliere segnalazioni e magari anche denunce non urgenti. I militari saranno impegnati un'ora a settimana in ciascun comune. Lunedì 11 febbraio si comincia ogni lunedì a Gignese dalle 14.30 alle 15.30 nell'ufficio della polizia locale e a Belgirate dalle 16 alle 17 in biblioteca. Dal 18 febbraio si unirà anche Brovello Carpugnino, sempre lunedì dalle 11 alle 12 nella sala consigliare. Inoltre i carabinieri incontreranno a partire da giovedì 7 febbraio i bambini delle scuole elementari di Stresa e Gignese, classi quarte e quinte per parlare di bullismo e cyberbullismo, di educazione alla legalità e dei pericoli della rete.